Cigelle e Will avevano annunciato azioni eclatanti, anche un'occupazione se non si fosse trovata subito una soluzione per far continuare a lavorare i 14 dipendenti delle due cooperative che si occupano di alcuni servizi importanti alla Biblioteca Albino di Campobasso. La loro proroga in scadenza il 31 luglio. Secondo la riforma del Rio, la cultura è una delle competenze tolte alle province. Per l'ente di Via a Roma, una doccia fredda che ha portato alla luce il problema della biblioteca e l'impossibilità a gestirla per mancanza di fondi. Dopo un tiro e molla varie proroghe da parte della provincia, nell'ultimo incontro, almeno fino a dicembre, è stata trovata una soluzione tampone con un'ulteriore proroga per i 14 lavoratori. Proroga che farà ancora l'ente amministrato da De Matteis, ma per i fondi una via sarà trovata da tecnici anche della regione. L'impegno delle istituzioni al tavolo, sollecitate dai sindacati, è stato quello di indire entro fine anno un bando di gara per il servizio nel quale riassorbire i 14 lavoratori. Ma come evidenziato da Franco Spina Cigelle, quello che serve è una legge regionale quadro sulla cultura per dare indicazioni e certezze su come gestire al meglio il settore. Un settore su cui si spendono tante belle parole, ma che bisogna assolutamente regolamentare e non relegare in un angolino. Regione che sul punto si è impegnata già da settembre ad avviare un percorso, ma anche in questo caso i sindacati vigileranno affinché gli intenti non rimangano tali, ma diventino fatti e non solo spot. Le vertenze e lavoro sul tavolo sono numerose con persone e famiglie appese al filo della speranza per un futuro incerto. Ci sono anche 115 ex lavoratori socialmente utili assorbiti dagli anni 90 in cooperative che sono addette alle pulizie delle scuole in entrambe le province. Dal ministero i fondi sono diminuiti, gli appalti cambiano e per molti di loro si profila la mobilità. Adesso la pressione dei sindacati è sul governo nazionale, in quanto a livello locale i fondi, dicono, scarseggiano.